Lorenzo Giacomino, vice sindaco di Ronco Canavese. Oggi il Peter Graies Lab ha radunato imprenditori, insegnanti delle scuole del Canavese e delle valli di Lanzo, amministratori locali, si comincia a entrare nel concreto. Per voi che amministrate piccoli comuni, grandi nelle ambizioni ma piccoli nel territorio, che opportunità è questa della cooperazione trasfrontaliera? È una grandissima opportunità. Io credo che, come disse qualche tempo fa il nostro direttore del GAL, questi sono territori che sono poco abituati al turismo e all'innovazione. E quindi è nostro compito, soprattutto di noi amministratori, farli abituare un po' di più. E in questo caso oggi quasi parla di innovazione, sia le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni locali, che poi le imprese che vivono sul territorio. La sfida di domani la si deve assolutamente vincere, essendo più innovanti, così come dice l'acronimo di Graies.